Ciao a tutti ragazzi, sono Avena, sono qua con Balla G e Bobo, e siamo qui oggi con un altro banco da car game, così giusto per cacciargia dei soldi, e apri c'è Balla G che... Giusto, dai, che diventa l'omberno, allora, allora, attenzione, qui abbiamo cardacce utilissime, le volete, le scambiamo queste? Queste le diamo, sì, queste no, sì, no, sì, ok, dicevo, e cinque, va bene, tiriamole tutti fuori e scegliamole, perché dovete rinascolare qua, a me servono un po' il cassauro e c'è Balla Dynamo, il resto non serve, bene? E' banana, bene? Allora, io direi di truffare Gilby e... Nel senso, Volcasaurus, il suo Palad Dynamo, se non li trovo, me li scambiate. Allora, va bene, qui abbiamo cinque team di... Ne apriremo solo tre? Ne apriamo solo tre, perché uno è di Gilby, che poi ve lo aprirà, l'altro è di Cange, l'opening la fa sul suo canale, quindi cazzi suolo. E vabbè, quindi dobbiamo scegliere... Basta, starto io, io prendo questo, va bene. Mi ispira molto questo. Eh, vabbè, aspetta, vabbè, poi scegli quello? Vabbè, va bene, è lo stesso. Mi piacevo questo. Da posto, questi due metili, no, calma, calma, qua c'è quella che mi serve. Vabbè. Che sarebbe? Eh, uno che si zaccino. Sì, vabbè, vuol caso. No, serve a me. Va bene, vai, bella Gil, metteteli lì, chi apre l'ultimo? Dai, io? Io per ultimo. Oh, datemi uno di quei cosi per aprire queste robe. Le unghie. Esatto. Che potenza. Eh, io faccio fare adesso. Che potenza. Eh, sì, certo. Dai che qua, il Cilin sta questionando. Di a Gil, perché gliela apriremo noi. Sì, sì. No, no, non gliela apriamo, ne sono apri. Mango qua, gaga. Pensando, lì ci sono le promo. Fizione, metti qua, devi sbussare qua, nella zona di sbuttamento. Qua, è la zona di sbuttamento. Allora, altamente. Lentamente, devi farle scorrere. Lentamente, perché non si sa quale ultra ci saranno. Gira. Allora. Mago, gaga, gaga. Eh, questo qua. Giga Brilliant, ok. Giga Brilliant. Gaga Bolt. Una merda. Una merda. Che culo di merda. Eh, sì, così. Vabbè, poi qui è tutta roba super gay. Allora, non mi sbustare Freezedon, perché... Uh, quello lì, va. Il numerino del cazzo, brocchissimo. Quella mi serve. Buono, buono, buono così, buono. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Dai, che mi... Tu lo devi giocare, Borcasaurus o Venah? Ma non ci dico, non ci dico. Dai, scambiamolo, mi serve troppo. Oh, oh. Benzani, mini-team. Se lo trovi, Venah me lo dici. Qua, libretta delle istruzioni. Ah, sì, ottimo. Se lo sapete come si gioca. Allora. Oh, si vede perché io magari... Oh, però cazzo lo avevo detto, ecco, lì c'è quello che c'è. Allora. Manco cacà. Buono così. Sbusta, dai, anche te. Una merda. Una merda. Una merda. Una merda. Tutto. Questo mi serve? No, no. No. E poi... Mi sembrava che non mi serve. Quello mi serve. E tenere. Uh, invece questo. Questo mi serve. Eh, lo so. E poi ancora qualcos'altro. Ok. Guarda, ti va anche la lanciuga. Bene, 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 bene. Allora. Che io... C'è un casino di roba che mi serve. Cioè, no, in realtà due tanti però. Mi sento che mi va di merda. No, ma tu mi hai già dato già la di merda al mio. Lo scambi Bobo, quello? No. Mi serve troppo, dai. Ma tanto lo sbusta. Anch'io lo devo giocare. Fis. Ma no, non si gioca in Inzator. No, no. Tranquillo, adesso sbusti pure te. No, veramente. Io l'ho preso solo per quello. Quanto è bello? C'è il giga brillant, gente. Sì, è troppo bello. Carino. Peccato che sia blocco. Ehi, man, what is... Cos'è sta shit? Ho le mani pieni di Merz. Cos'è? C'è, 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 c'è. Lo sento, me lo sento, me lo sento, c'è. C'è. Me lo sento. C'è la... No. Sicuramente sculerà Gilby. Sì, sicuro come l'oro. Non sa c'è tale, dai. Porco zio, perché mi serviva troppo. Vabbè, allora per oggi cerca il numero 61. E anche il... Sì. Sì. E anche il paladainamo. E vabbè, direi che... Questo video è tutto, sì. Ah sì, poi vi faremo vedere anche l'opening di Gilberto sicuramente, perché dovrà sculare sicuramente. Esatto. E vabbè, direi che per questo video c'è tutto. Non so se dove n'ha. E da Bella G, Bobo. E va a fanculo. E al prossimo video. Ciao. Ciao.